e vai oppla in giro per il paese ma che sono avvortiti come va? come va? come va? come va? vedi david vedi david il vento il vento vedi david oh ho posto tra naci come va cammelli alla terza nuova moda non si è partito con noi non si è partito eh sì però non è facile guarda i cammelli guarda sono fosciuti i cammelli eh 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 aids che viene a dodo guarda 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 non si è appoggiato a品ico se cacto oppure менco cosa cose in sce프 scegliere dentro Sì, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più.